Come va, come va, come va, buona giornata, un saluto a tutti, iscrivetevi numerosi qui, attivate la campanella, pochi giorni eh, perché tra pochi giorni scade il concorso, c'è la premiazione, uno di voi vincerà la maglia del Milan, uno di quelli che avrà fatto iscrivere tre amici. Vi ricordo di lasciare un like qui sotto, come va, come va ragazzi, colgo l'occasione rapidamente anche per consigliarvi di scaricare gratuitamente l'app di OneFootball, ripeto gratuitamente, vi metto il link qua sotto in descrizione, l'app di riferimento con tutte le notizie, live, calciomercato, esclusive, aggiornamenti, anche gli highlights di A e anche di B OneFootball, il link qui sotto in descrizione. Allora ragazzi, come va, come va, bene, 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 oggi si torna in campo, giusto, ripensare ovviamente al campo, però è un derby lungo, 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 poi più tardi ovviamente viaggeremo anche con le ultimissime per quanto riguarda la gara di stasera, recuperiamo i giocatori, bene, bene, bene così, bisogna passare il turno perché abbiamo visto anche ieri, insomma, si potrebbe pronunciare una bella semifinale e poi è un torneo che se si vince dà comunque gioie e tornerà a vincere qualcosa, non sarebbe affatto male, detto che c'è anche dell'altro, ma non si sa come va, come va, e quindi ragazzi poi pensiamo ovviamente al campo, sta succedendo un po' di tutto, non so come orientare il video, da dove partire, partiamo subito da un concetto, ieri vi abbiamo raccontato ovviamente delle provvedimenti post derby, una giornata in zaghi, due giornate a bastoni e multa a Lautaro, multa a Teo Hernandez, devo che si becca una giornata perché era stato espulso in campo, no? La prima cosa che mi sorge un po' spontanea, che sorge come, che sboccia come le primule in primavera, manca poco, eh? O come i tulipani, i miei fiori preferiti, tulipani anche perché, sì, Van Basten, questo è il subito di Van Basten, oggi sono un po' così ragazzi, un po' adrenalinico anche perché torna in campo il Milan, la prima cosa pensavo, guardate, immaginate, chiudete gli occhi, e adesso riapriteli, focalizzate Mila Spezia, quell'episodio, focalizzate Giroud Sanchez, quel non-episodio, pensate alla gravità, con estrema obiettività, ecco, la gravità dell'uno, la non-gravità dell'altro, che non è un episodio perché è stato dimostrato non era neanche fallo, pensate a come reagiscono i giocatori del Milan, pensate all'immagine dei giocatori del Milan che vanno a consolare l'arbitro, lo consolano, dicono si può sbagliare, anche io ho sbagliato il rigore, può capitare, gravità, giocatori che consolano, dall'altra parte invece un fatto che non è fallo e quindi è un fatto che non sussiste, giocatori che inveiscono contro l'arbitro, due giornate per qualcosa detto evidentemente di grave da parte di Bastoni e Inzaghi che anche lui nel tunnel inveisce contro l'arbitro e si becca una giornata disqualifica, quindi in totale tre giornate disqualifica per un non-episodio, zero giornate disqualifica, in questo caso è stato mai squalificato l'arbitro, comprensione, pacca sulla spalla, incoraggiamento per un episodio gravissimo, guardate che differenza, e quando io dico, l'ho detto spesso, bisogna alzare la voce anche noi, ovviamente non intendo alzare la voce nel modo brutto, di qui sopra, ma nelle sedi opportune, con qualche ricreazione, ma sicuramente apprezziamo molto di più il fair play, piuttosto che comportamenti deprecabili. Tra l'altro il paradosso di Inzaghi ha tolto i giocatori già ammoniti per paura delle squalifiche e li ha fatti squalificare perché ovviamente poi il clima si è creato per lo stesso Inzaghi che aveva visto qualcosa di scandaloso che poi i fatti hanno dimostrato non c'era perché Giroud toglie la palla, prende per primo la palla perché Sanchez manco la tocca e va avanti e c'è quella spalla contro spalla. Guardate che differenze, guardate che differenze clamorose anche se poi ci hanno detto ma no, l'Inter non si lamenta nonostante quel fatto che non era fatto. E ieri vi dicevo, ma i ben pensanti, i moralisti a targhe alterne, gli interisti di Interspac, questo progetto che doveva rivoluzionare e che invece ne ha offragato su se stesso prima ancora di nascere, questa volta hanno alzato il ditino sul comportamento di Lautaro, lo alzano su quello di Bastone e di Inzaghi e ieri dicevo hanno finito i Giga. Poi però escono queste sentenze e quelli che vedevano nell'Inter un comportamento esemplare perché l'Inter non protesta devono cancellare i tweet, devono cancellare le dichiarazioni e ho sentito, ho letto sempre questi VIP dire ma come? Allora il campionato si decide in ufficio, Bertolino uno di questi, altri contestare la stangata all'Inter con questo sempre senso di accerchiamento, come se il palazzo ce l'avesse con loro e questo mi fa molto 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 sorridere. Quindi hanno ritrovato i Giga, hanno rinnovato la promozione ieri. Detto questo ragazzi è un derby che non finisce mai ma che doveva essere già finito. Lo hanno portato loro avanti e ribadisco ancora una volta. Immaginate! Ecco chiudiamo ancora gli occhi e riapriamoli. Inter-Lazio come finisce? L'Inter che perde, anzi Lazio-Inter e finisce il Rissa. Con il Real Madrid perdono, Varela perde la testa. Con il Milan, seconda partita del campionato, perdono come finisce anche lì il Rissa. Non sanno perdere in campo la squadra, che poi è un'immagine su minanza del tecnico che per primo forse ha iniziato a protestare. Bisogna saper perdere, questo è un nervosismo che secondo me va analizzato e gestito in casa loro e non prendere il tutto come siamo vittime ha sbagliato l'arbitro. Però questa è una cosa che non ci riguarda. Ma guardate che differenze. Dopodiché c'è una cosa che mi fa rabbia però, eh. Io ve lo dico. C'è una cosa che... Sapete che c'è ogni tanto qualche pensiero, no? Che dici, vabbè, meglio non ci penso adesso perché mi viene nervoso. Meglio non pensarci. Il classico meglio non pensarci. Il meglio non pensarci... Ma ci penso. Soprattutto dopo domenica ci penso. E come mi fa venire rabbia. Guardate la classifica oggi. E pensate a... La gara con lo Spezia vinta. Poi potevamo far sicuramente di meglio, eccetera. Però ci avevano detto al novantesimo non può essere sulla parità. Poi loro, loro, quelli che ora sono i nostri rivali, due giorni dopo in Coppa Italia erano anche loro... Perdevano addirittura, se non sbaglio, con l'Empoli. Quella partita lì, se non c'è quel fisco, la portiamo a casa. Sono tre punti. Vogliamo metterci anche quel punto nel finale con il Napoli? Vogliamo mettercelo? Sono quattro punti. Quel punto con il Napoli è un peso specifico incredibile perché è un punto che può fare la differenza, ma è anche due punti che avremmo tolto al Napoli, che quindi oggi sarebbe a tre punti in meno. Vogliamo metterlo da parte? Pensiamo soltanto all'episodio più eclatante del quale hanno parlato in tutto il mondo. Togliamolo. Tre punti con lo Spezia. Se li mettiamo oggi, quei tre punti con lo Spezia, la situazione che oggi è buona sarebbe ottima. Altro che pressione, sarebbero nel panico più totale. Io davvero, quei tre punti mi sono rimasti qui, anche con il Napoli, alla fine sono quattro. Se mettiamo quei quattro punti, ragazzi, di che cosa stiamo parlando? E loro hanno usato, non tutti, per carità, non voglio generalizzare, in molti hanno paragonato quel contatto Giru Sanchez che non era fallo, con l'episodio Serra, no? L'effetto Serra, eccetera, eccetera. Quello ci è costato tre punti che non ci ridarranno più nessuno, purtroppo, non ce lo ridarrà più. E che spero, vivamente, non incideranno alla fine di questo campionato. Per qualsiasi tipo di verdetto, Champions League piuttosto che altro. Spero tanto non incideranno. Spero tanto che quei tre più uno, quattro punti non incideranno. Mai e poi mai. Se ci penso, mi viene rabbia e quindi dico meglio non pensarci. Però, ragazzi, si parla tanto dell'Inter, l'Inter è sicuramente più completa, più esperienza, più consapevolezza. Però, se togliamo quei punti lì, la differenza oggi non c'è. No, la differenza c'è, perché loro non hanno mai avuto l'amore e gli infortuni, le sfortune anche che abbiamo avuto noi. Bravi loro, ma anche un po' più fortunati rispetto a noi. Pensate a loro. 24 partite di campionato con fuori 3 o 4 titolari a volta, perché è stato così. Quindi, io dico ancora una volta, la squadra e Piogli hanno fatto un miracolo. La differenza oggi non si vede, perché siamo lì e dovremmo avere anche qualche punto in più. E quindi, mi tolgo ancora una volta il cappello davanti a Piogli, la squadra, che hanno fatto un capolavoro. Incredibile, che spero possa continuare. Andando a riflettere poi, si parla della primavera di Inzaghi. Sono andato a vedermi ieri, a parte la scorsa stagione, le squadre di Inzaghi, la Lazio, nel secondo gironi hanno sempre fatto peggio del gironi di andata. A volte 8 punti meno, a volte 5, a volte 4. L'anno scorso uguale, 34 e 34 con la Lazio. Vediamo. Andiamo avanti. Giochiamo, sperando davvero che quei punti alla fine non peseranno. Ma qui, siccome siamo una community rosso-nera, vogliamo ricordarlo a qualcuno. La buttiamo lì, ricordatelo anche voi. Condividete se vi va questo video sui vostri social. Siete d'accordo? Lasciate un bel like qui sotto. Ragazzi, giornata di partita, superiamo i 5000 like. Iscrivetevi numerosi e attivate la campanella. E vi aspetto anche sul mio nuovo canale. Qui sotto c'è il link, venite numerosissimi. Un abbraccio, forza mia, oggi più che mai. Domani ancora di più, intanto oggi più che mai. Ciao. Pazzesco. Che rabbia!